AbbaMed, medicina estetica, bioingegneria dello sport, a Bovalino. Cosa facciamo? Ci prendiamo cura della tua bellezza? Carbossiterapia, RF medicale corpo, luce pulsata corpo, mesoterapia, peeling chimico, biorivitalizzazione, RF viso, luce pulsata viso, ossigeno zono e mesoterapia ed ancora esame baropodometrico computerizzato del piede. AbbaMed, medicina estetica, bioingegneria dello sport, a Bovalino.